A proposito, professore, rimanga con noi perché adesso parliamo di un caso un po' estremo, diciamo, a proposito di sacche di popolazione che non si riesce a raggiungere per la vaccinazione. E questa situazione è quella di Carini, in provincia di Palermo, che è il paese che è risultato con meno vaccinati di tutta la Sicilia. Insomma, ha pochissimi vaccinati. Noi siamo collegati con Giuseppe Monteleone, che è il sindaco di Carini. Ma buongiorno, sindaco. Buongiorno. Buongiorno a voi a tutti. Allora, qual è il motivo di questa scarsa vaccinazione? Organizzativo, logistico, ci sono tanti no-vax. Perché? Ma guardi, io finalmente ieri ho avuto i dati ufficiali. e sono Carini a 40.000 abitanti. Sono 2.597 coloro che hanno avuto somministrato due dosi e 1.353 quelli che hanno ricevuto soltanto una dose su 40.000 abitanti, dicevo. Ma io ritengo che la causa sia, per carità, ci sarà qualcuno, parecchi no-vax, che sono preoccupati, visto un po' la campagna che c'è stata negativa nei confronti AstraZeneca, il maggior vaccino, diciamo, in circolazione. Però ho pure visto che finalmente la scorsa settimana per la prima volta è stato aperto un piccolo centro vaccinale, un drive-in per ultra-ottantenni e in tre giorni, con solo due postazioni, si sono vaccinati ben 430 ultra-ottantenni e invalidi al centro vaccinale. È un problema logistico, diciamo, di andare in un centro vaccinale vicino. Ecco, questo è il motivo, è semplicemente logistico. Noi abbiamo colto l'opportunità anche di questa diffusione della notizia a mezzo stampa, abbiamo fatto le nostre pressioni e finalmente stiamo allestendo un centro vaccinale, abbiamo allestito già un centro vaccinale con 4 postazioni presso un centro commerciale, abbastanza comodo, agevole, e abbiamo messo tutta l'attrezzatura con fondi comunali, compresi computer, lettori, diciamo, codice a bar, stampanti, punto internet. Speriamo che anche questo centro vaccinale, che domani ci sarà in sopralluogo di collaudo, possa anche essere inserito, diciamo, nell'elenco delle piattaforme per le prenotazioni, perché risulta che ci sono settantenni che sono stati prenotati per misilmeri oppure bagherie che sono comuni, che sono dall'altra parte della provincia, all'est di Palermo, e lontani già a 40 chilometri. Quindi per chi non ha mezzi di locomozione è un po' difficoltoso questo. Allora, professore, per concludere, come si fa a rintracciare, abbiamo visto la situazione di Carini, dove il problema era puramente logistico, ora probabilmente lo sarà per una quota di questi 4 milioni, ma insomma, come si fa a rintracciare tutte queste persone e quindi provvedere alla loro vaccinazione? Ci vuole uno sforzo delle istituzioni locali, territoriali, e la discesa in campo dei medici di medicina generale. Non c'è, direi, in teoria nessuno che non abbia un medico di medicina generale di riferimento. Quindi bisogna lavorare e rapidamente colmare questi gap che sono, direi, decisivi per il successo della campagna vaccinale. Mettere in sicurezza chi è più a rischio, anziani, grandi anziani e fragili. Grazie, professor Menichetti, grazie anche al sindaco di Carini.